Su alcuni treni esiste una carrozza dedicata al silenzio, a chi preferisce viaggiare in tranquillità e relax, magari riposando o lavorando a bordo treno senza essere disturbati. L'area del silenzio è un servizio esclusivo di Trenitalia. Le zone dedicate al silenzio sono indicate con degli adesivi e sono presenti video informativi sugli schermi. Qualora qualcuno provasse a interromperlo, sarà invitato dal capotreno stesso a rispettare le regole. In quest'area è richiesto di abbassare le suonerie dei cellulari e di parlare a bassa voce, anche se il massimo sarebbe non parlare affatto. Un'altra area a disposizione degli utenti è quella Meeting. Si può avere a disposizione uno spazio riservato per un viaggio all'insegna del comfort e dell'efficienza. L'area Meeting infatti dispone di 5 posti ed è dotata di prese elettriche e un monitor a colori da 32 pollici collegabile al computer, per consentire di ottimizzare i tempi di viaggio lavorando in piena autonomia e privacy con i collaboratori. Un ulteriore servizio offerto è quello di accompagnamento, che permette di far viaggiare i propri carico nell'assistenza durante tutto il viaggio di personale dedicato. Il servizio è disponibile per i viaggiatori minorenni dei 7 anni di età e per i viaggiatori maggiorenni.